Un'eccellenza del settore della moda e imprenditoriale del territorio ha ricevuto il premio dei tre diamanti d'oro per il suo salone di Montevarchi. È Egidio Borri, valutato dal gruppo Uala che assegna la massima onoreficenza per i saloni di parrucchieri in Italia. Egidio, tra i massimi esponenti dell'arte del capello nazionale partito dalla periferia, si ritrova oggi ad essere tra i parrucchieri più conosciuti al mondo. Un premio che ha colto di sorpresa anche il protagonista. Noi non sapevamo niente, è una cosa in incognita che persone hanno visitato i saloni, i 100 saloni più importanti d'Italia e in incognita queste persone hanno riempito delle schede di valutazione facendosi un taglio, una piega, un colore ed hanno rilevato che questo salone è il salone più stellato d'Italia. Io dico ancora stellato perché chiamare diamanti d'oro ancora non mi riesce. Questo è il salone mio quartiere generale che mi rappresenta e le mie ragazze professionali, capaci e che hanno acquisito il metodo hanno trasferito questo servizio alle persone che hanno fatto la visita al salone. È un premio alla capacità, alla professionalità, al sapere ascoltare la cliente che è molto importante oggi, la consultazione prima di fare. Solo sei hair stylist in Italia hanno ricevuto il premio. Questa è la motivazione dell'onoreficenza. Gidio Borri oggi rappresenta una eccellenza per l'Italia di cui veramente dovremmo andare fieri e per Montevarchi ovviamente. Perché proprio lui? Perché l'esperienza all'interno del salone di Gidio Borri è fantastica. La donna è coccolata, esce più bella di come è entrata, lo stile e la cura del dettaglio sono eccezionali, la caratteristica stilistica del maestro è incredibile, la tecnicalità è incredibile e quindi non potevamo non notare questa cosa. I nostri 800-900 agenti in incognito che hanno visitato migliaia di salone in tutta Italia non potevano non notarla e in effetti non è un caso che Gidio calchi tutte le settimane e tutti i mesi i palchi più prestigiosi d'Italia dal Vella Collection Show al Cosmoprof in cui mostra la sua arte come quasi fosse una rock star. Dovreste vederlo sul palco, tagliare e fare il suo show, è qualcosa di incredibile.